Da 15 anni SoleTerre è una storia di tutela e promozione dei diritti, scritta in 23 paesi del mondo e narrata in favore di oltre 260.000 persone. Il diritto alla salute è il filo conduttore di questa storia, inteso come benessere fisico e mentale, perché salute è giustizia sociale. SoleTerre è intervenuta in paesi in cui l'istruzione viene interrotta prima dell'età minima, coinvolgendo 58.000 persone in progetti e attività in ambito educativo. Con programmi di lotta alla malnutrizione e per la salute materno-infantile, ha operato in favore di 30.000 persone. SoleTerre è intervenuta in 16 ospedali del mondo, portando medicinali, strumentazioni, formazione al personale sanitario. Grazie ad un programma internazionale per l'oncologia pediatrica, ha sostenuto 21.500 bambini malati di cancro e i loro familiari in sei paesi. Tramite quattro case di accoglienza ha fornito un posto sicuro e confortevole a 1.700 bambini, costretti a curarsi lontano da casa. Ha realizzato attività di orientamento, formazione e accompagnamento, avvicinando 18.000 persone al mondo del lavoro e sostenendo la creazione di 32 imprese sociali. SoleTerre ha contribuito alla tutela delle libertà di espressione e partecipazione in paesi in cui sono negate, sostenendo 5.600 persone che, da sole o in associazioni, fanno sentire la loro voce per il riconoscimento dei diritti. Cure, istruzione, cibo, lavoro, accoglienza, partecipazione, sono tutti strumenti che determinano la salute e la giustizia sociale, con i quali SoleTerre narra la sua storia da 15 anni. SoleTerre. Salute e giustizia sociale. Salute e giustizia sociale.